Musica Ben ritrovati ad una nuova edizione serale del nostro telegiornale In apertura dolore a Vigo Nuovo dove una bambina di 9 anni è morta improvvisamente La piccola aveva una forte febbre che ha fatto preoccupare i genitori tanto da rivolgersi al pronto soccorso È scattato il ricovero ma in poche ore la situazione è peggiorata sempre di più Finché è degenerata strappando alla vita la piccola Inizialmente si era sparsa la voce che si trattasse di un caso di meningite Ma non è questa la causa alla base del decesso Sarà l'esame autoptico a stabilire le motivazioni esatte della morte Una tragedia che ha colpito la famiglia Alla quale anche noi di Telecittà vogliamo esprimere la nostra vicinanza E purtroppo ancora una pagina triste dalla cronaca Un'altra vittima della crisi in Veneto Un altro imprenditore si è tolto la vita e è accaduto a quinto di Treviso A trovare il corpo esanime dell'uomo sono stati i suoi dipendenti La vittima aveva 47 anni e era il proprietario della ditta Ebla Stefano Busato Sul posto sono giunti i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini sul caso L'azienda si occupa di trattamenti termici metallici Il 47enne sarebbe giunto in azienda forse per un guasto ad un forno Infatti in mattinata sono giunti anche i vigili del fuoco perché dal macchinario usciva del magnesio Il lavoro però come nella stragrande maggioranza delle aziende non stava andando bene Per questo potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto l'imprenditore a togliersi la vita E cambiamo ora completamente argomento Al centro delle cronache continua ad essere lo scandalo della carne di cavallo La presenza di questo tipo di carne in prodotti in cui vi sarebbe dovuta essere solo carne di provenienza bovina Ha scatenato una serie di reazioni del mercato Come il sequestro di ingenti quantitativi di prodotti precotti E conseguentemente allarmato i consumatori Si parla di provenienza sospetta delle carni Di farmaci che arrivano direttamente sui piatti E di una filiera, quella dell'equino, simile al Far West L'Italia però è il primo consumatore europeo di carne di cavallo Abbiamo allora voluto capirci qualcosa di più Per questo abbiamo realizzato un'intervista con un esperto del settore Che ora vi facciamo vedere Parliamo dello scandalo della carne equina Uno scandalo che si sta diffondendo a macchia d'olio E che sta coinvolgendo anche in maniera negativa la filiera della carne equina Innanzitutto perché ci troviamo di fronte a una frode commerciale? È giusto ricordare al consumatore che questa vicenda è nata da uno scandalo Dove della carne di cavallo è stata inserita dentro dei preparati Di lasagne o di altri prodotti E in minima parte ragù, quindi bovino Contenente piccole percentuali di carne di cavallo Quindi si tratta semplicemente di un ingrediente Che non era stato dichiarato nell'etichetta E che è diritto del consumatore saperne la presenza oppure no Dicevamo che è una frode commerciale Che sta mettendo a dura prova però anche la filiera della carne di cavallo Che in Italia è una filiera importante Che fa quali numeri? Beh, ci sono una macellazione che è orientativamente su diverse centinaia di migliaia di capi Ma va detto una cosa Che il mercato, soprattutto quello italiano Vive dell'importazione di carni Che sono essenzialmente dai paesi della Nord America Quali Canada o Sud America che può essere Uruguay e Argentina Questi sono gli indotti principali Perché i quantitativi di carne di origine nazionale Non sarebbero sufficienti per garantire il consumo Ad ogni modo va anche detto che tutti i macelli esteri che sono autorizzati a fornire il mercato europeo Devono attenersi alle regole del mercato europeo stesso Soprattutto per quanto riguarda anche la normativa sulla tracciabilità E sulla rintracciabilità Quindi tutti i capi che sono destinati al consumo umano Sia quelli di provenienza estera sia quelli di provenienza nazionale Sono dotati di un microchip identificativo Che permette quindi il riconoscimento dell'animale All'atto della macellazione Un'altra delle cose che sta facendo preoccupare i consumatori È quella della possibilità di consumare della carne Che abbia in sé dei farmaci E soprattutto si parla di cavalli Che avrebbero smesso del mondo delle corse E poi sarebbero finiti sui piatti Ecco, su questo lei cosa si sente di dire? È una paura reale oppure no? Ritengo di dire che sia amplificato un problema molto 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 marginale Perché ripetendo sempre la normativa vigente Un cavallo alla nascita deve essere giudicato O da consumo umano oppure da uso sportivo Questo è il momento della nascita E di conseguenza gli sarà innestato un CIP Che lo identificherà a vita per questo destino È vietato per gli animali a utilizzo sportivo E quindi una volta identificati Che siano rimessi nel ciclo alimentare Per quanto riguarda la tavola però La scelta finale è sempre quella fatta dal consumatore Che decide che cosa mettersi nel piatto È chiaro che per quanto riguarda il consumo delle carni fresche In modo particolare Vi è la vocazione per quanto riguarda i dettaglianti Alla scelta di carni di alta qualità Proprio per una questione organolettica Perché il consumatore è sensibile A requisiti che sono il gusto Ma anche il componente grassa La tenerezza E quindi tutti questi requisiti Non possono arrivare da animali ignoti Di origine ignota Non allevati secondo determinate caratteristiche È chiaro che sul banco del negozio dettagliante Dove si offre la carne fresca È sempre una selezione di quello che è il parco O comunque animali Sembrava una banale caduta dalla bicicletta Ma una donna di 33 anni di montagnana Il giorno dopo la caduta è morta Dopo lo scivolone aveva rimediato una ferita al braccio Ma in evidenza non c'erano altri segni particolari Nella notte la 33enne ha iniziato ad accusare una forte nausea La mattina dopo il malore era talmente forte Che la donna è ricorsa alle cure del pronto soccorso Dove però è arrivata troppo tardi Le cause della morte al momento non sono chiare Alimenti scaduti e conservati male Un vero pericolo per la salute dei consumatori Un'operazione della Guardia di Finanza ha sequestrato 15 tonnellate di prodotti ittici Eseguito un sequestro di 15 tonnellate di alimenti freschi ma surgelati E tenuti in cattivo stato di conservazione Quindi potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Verona E il reparto aereo navale di Venezia Il sequestro è stato effettuato in una ditta di San Giovanni Lupatoto In provincia di Verona Si tratta di prodotti ittici Molti di questi alimenti Oltre che conservati male Erano anche scaduti Le indagini sono state svolte con il supporto dell'URS20 di Verona Il legale rappresentante dell'azienda È stato deferito all'autorità giudiziaria Per violazione della normativa speciale In materia di conservazione degli alimenti Destinati al consumo umano A Pianiga in provincia di Venezia È stato arrestato Luca Carlin 44 anni L'uomo nel 2004 aveva tentato di rapire a Cadoneghe Nel Padovano un bambino di 3 anni Erano stati momenti terribili Il piccolo era con la madre Che era stata massacrata di botte dall'uomo Violenza inaudita La donna aveva combattuto con tutta se stessa Per salvare il piccolo L'uomo poi era stato costretto a dileguarsi Successivamente era stato individuato E condannato a 5 anni e mezzo Ma il 44 anni era fuggito Diventando latitante Una latitanza terminata Grazie ai carabinieri Che l'hanno trovato e portato in carcere a Venezia Individuata a Pordenone La banda dei Bancomat Fra i colpi attribuiti al gruppo Anche quello compiuto l'altra notte a Cadoneghe Ai danni della banca Friuladria Tra i fermi eseguiti dai carabinieri Una quarta persona sarebbe invece riuscita A sfuggire alla cattura Sentiamo Colpi in numerose banche Di Friuli, Venezia, Giulia e Veneto E' questa l'accusa che ha portato i carabinieri Di Pordenone ad eseguire il fermo di tre persone Emanuele Garbin 39 anni Di Trevignano, Udine Marco Maurutto 27 Di Caneva, Pordenone E Steven Garbin 23 anni Di Oderzo, Treviso Per gli uomini dell'arma Sono la banda dei Bancomat Che dalla fine del 2011 Ha fatto saltare gli sportelli Di numerosi istituti bancari Delle due regioni Una quarta persona del gruppo E' riuscita invece a fuggire alla cattura Secondo quanto emerso dalle indagini Il quartetto avrebbe all'attivo Una serie di colpi con l'esplosivo E i fermi sarebbero stati eseguiti A meno di 24 ore Dal loro ultimo assalto Fra i colpi attribuibili alla banda Vi sarebbe infatti Anche quello avvenuto La scorsa notte a Cadoneghe Nel Padovano Ai danni della filiale Della Friuladria Dove oltre all'utilizzo Di una marmottina Con polvere pirica La banda è entrata in azione Con un camion Dotato di braccio meccanico Con il quale ha scardinato Una delle porte antipanico Della banca Nel corso delle operazioni I carabinieri del reparto operativo Del comando provinciale Di Pordenone Hanno sequestrato Oltre 7 mila euro Denaro che sarebbe Da attribuire Proprio a quest'ultimo Assalto notturno Sotto sequestro E' finita anche una Maserati Risultata rubata A Maserada A Treviso E a numerosi attrezzi Compreso un distributore Di frequenze radio A Treviso Sono stati arrestati Due cittadini Moldavi Fermati dalla polizia Sono stati trovati In possesso Di bancomat Delle poste Appartenenti a cittadini Del veneziano E del trevigiano Erano tutte Tessere clonate Con tanto di codici Segreti Li custodivano In macchina I due avevano Anche 5 mila euro In banconote Da 50 euro Nella stessa auto C'era anche tutto Il materiale Che utilizzavano Per copiare I codici segreti Nei momenti dei prelievi Agli esportali Da parte Negli ignari Cittadini Tanta paura Ieri a Cison Per un'esplosione All'interno Di un'abitazione Era l'ora di cena Quando un boato Ha fatto risalire Gli abitanti Di un quartiere Residenziale La deflagrazione Era stata provocata Dallo scoppio Di una bombola Del gas All'interno Di un'abitazione Ferito in maniera Gravissima Il padrone di casa Un uomo Di 91 anni Che è stato portato Al centro Grandi ustionati Dell'azienda Ospedaliera Di Padova Il 91enne Ha riportato La maggior parte Delle ustioni Al volto E alle mani Sul posto Per ore Hanno lavorato I vigili Del fuoco La casa È stata dichiarata Inagibile Sconosciute Al momento Le cause Che hanno portato Allo scoppio Con la via Di questa settimana Si sono conclusi I saldi Il bilancio Però Si è rivelato Disastroso Abbigliamento E calzature I settori Più penalizzati Sentiamo Non sono serviti Nemmeno i super sconti Le offerte vantaggiose Infatti Non hanno fatto decollare Le vendite In uno dei periodi Dell'anno Quello dei saldi In cui Di solito Gli affari Per commercianti E consumatori Tendono a coincidere Il peso Della crisi Ha schiacciato Le vendite Rendendo pesanti I numeri Federmoda Italia Confcommercio Indica un calo Del 10% Delle vendite Rispetto al già il negativo 2012 Con uno scontrino medio Fermo a 92 euro Meno 25% La Fismo Confesercenti Stima vendita In flessione Del 20% I settori più penalizzati Sono l'abbigliamento E le calzature La verità È che qui Il mercato è morto È lapidario Il presidente Di Federmoda Italia Renato Borghi Nel tracciare Il bilancio Per il settore Dell'abbigliamento E calzature Al termine Di questo periodo Di saldi Questi dunque I dati A livello nazionale Che però sembrano rispecchiare Anche la situazione locale I sondaggi di mercato Elaborati dall'ufficio studi Dell'ASCOM Confcommercio Di Padova Che tra il 30 E il 31 gennaio Ha sondato un campione Di negozi Del centro storico Cittadino Dicono infatti Lo stesso Secondo l'indagine Dell'ASCOM Rispetto all'anno scorso Soltanto un risicatissimo 1,84% Ha dichiarato Un aumento Dell'afflusso Dei compratori Mentre per bene Il 79,20% Delle attività Commerciali L'afflusso È stato minore Per gli esperti Del settore La situazione Potrebbe sbloccarsi Se migliora Il clima di fiducia Delle famiglie Determinanti per questo Le azioni Che il nuovo governo Qualsiasi esso sia Vorrà intraprendere Fa cui Non dovrebbero mancare L'alleggerimento fiscale Proprio sulle famiglie Nel veneziano A Chirignago All'alba di stamane Un mezzo Della CTV È andato Completamente distrutto Dalle fiamme Il bus Era partito Da Piazzale Roma Ed era diretto A Mirano Improvvisamente Della parte posteriore L'autista Ha sentito Uno scoppio E ha visto Le fiamme Con prontezza Ha fatto scendere I passeggeri E mentre allertava Il 115 Ha provato a spegnere Il fuoco Con un estintore Le fiamme Però in poco tempo Si sono propagate Al mezzo Che è andato Interamente distrutto Fortunatamente Non ci sono stati feriti Molti invece I disagi Alla circolazione Mattutina Ed ora Continuiamo a parlare Di Venezia Il ponte di Calatrava Andrà in udienza Il prossimo novembre La Corte dei Conti del Veneto Ha fissato la data A giudizio Lo stesso architetto E tre ingegneri Sentiamo Una crescita esponenziale Dei costi Che da 4 milioni previsti È passata a 10 Un aumento oggettivo E la previsione Per il futuro Di un costante E spropositato E sborso economico Da parte Dell'amministrazione In quanto L'opera È affetta Da una patologia cronica Caratterizzata Dalla necessità Di un costante monitoraggio E dal continuo ricorso Ad interventi Ad affermarlo È il procuratore veneto Della Corte dei Conti Carmine Scarano E ora L'organo collegiale Ha fissato la data Dell'udienza Che si terrà Il 13 novembre Dopo circa 10 anni Di indagini Il procuratore Ha accertato Una crescita esponenziale Dei costi Per la realizzazione Del quarto ponte Sul Canal Grande Che unisce Piazzale Roma Alla stazione ferroviaria Di Santa Lucia Ad essere giudicati I presunti errori Nella realizzazione Del ponte Di Calatrava Venezia Per i quali Sono state rinviate A giudizio Quattro persone Si tratta Dello stesso architetto Santiago Calatrava E dei tre ingegneri Che in questi anni Hanno a vario titolo Ricoperto I ruoli Di responsabile Unico Di procedimento O direttore Dei lavori Il procuratore Veneto Della Corte Dei Conti Ha chiesto 1.078.000 euro L'architetto Calatrava 1.705.000 euro A Roberto Sibilia 723.000 euro A Salvatore Vento E 379.000 A Roberto Casarin I tre ingegneri Coinvolti nel caso Sul web Intanto Si scatenano Le reazioni Dei veneziani Da sempre divisi Su un progetto Di grande impatto E bellezza Ma che fino ad ora È stato al centro Di non pochi problemi E polemiche Se la nuova tecnologia E gli apparecchi Sempre più piccoli Sono un vantaggio A volte Possono trasformarsi In vere trappole Ne sa qualcosa Una cassiera Di un ipermercato Che è stata ripresa Dal minuscolo Occhio di una telecamera In una parte Del corpo Non esattamente A portata Di click Vicino alla cassa Sostava un uomo Che aveva Una piccolissima telecamera In mano E la puntava Per registrare Il fondo schiena Comunica Comunica la prefettura Di Belluno Il voto si terrà Domenica 21 aprile Dalle 8 alle 22 E lunedì 22 aprile Dalle 7 alle 15 Lo scrutinio Inizierà subito Dopo la chiusura Dei seggi In tempi Di crisi Si rinuncia Alle vacanze Ma non In luglio E agosto A soffrire Il calo Delle vendite I viaggi Durante il resto Dell'anno Ascoltiamo Viaggi in aumento Per gli italiani Nel 2012 Rispetto al 2011 Quando la maggior parte Dei cittadini Ha rinunciato Alle vacanze Nonostante la crisi Economica L'anno trascorso Ha dimostrato Che con qualche sacrificio Almeno il 62,7% Dei nostri connazionali Si è preso Un periodo Di meritato riposo Ciò non vuol dire Che il settore turismo È in ripresa Ma che sta comunque Migliorando I mesi Delle partenze Sono stati Luglio E agosto Dai dati Emerge Chiaramente Un forte calo Di chi va in vacanza In altri mesi Dell'anno Con un saldo Complessivo Negativo Meno 8,1% Sulle vacanze Nel 2012 A soffrirne In particolare Il mese di marzo Meno 40% Meno 41,9% Ottobre E addirittura Un meno 65,4% Nel mese Di novembre I dati Sono stati resi Noti Da un'indagine Dell'ISNART L'Istituto Nazionale Imprese Turistiche E pubblicata Su Impresa Turismo Era l'ultima notizia Per questo telegiornale Prima però Di salutarci Diamo lo sguardo Consueto Le previsioni Del tempo Per domani Mercoledì 6 marzo Il cielo Sarà in genere Coperto Salvo Sporadiche Schiarite Le nuvole Porteranno Alta probabilità Di precipitazioni Con fenomeni Con fenomeni Di moderata Entità Salvo locali Rovesci Sulle zone Centro-orientali Nella seconda parte Della giornata In pianura E nelle valli Temperature minime In aumento Anche sensibile E massime In calo In quota Valori termici Generalmente Stazionari O in lieve calo E per questa edizione È davvero tutto Grazie per averci seguito E buon proseguimento Di serata In compagnia Della programmazione Di Telecittà Grazie per averci seguito